Non sono un Novax. Amareggiato per le polemiche nate dalla sua vicenda personale, Gianluca Cruciani, 44enne titolare del ristorante Casamachi in piazza Salotto a Pescara, chiuso lo scorso 5 agosto per la riscontrata positività al covid di 11 dipendenti, prova con un videomessaggio a fare chiarezza sull'accaduto, che lo ha visto suo malgrado diventare protagonista degli articoli di numerose testate giornalistiche, anche internazionali. Da non vaccinato e negativo al covid, tra gli 11 dipendenti positivi del suo locale ora in quarantena, di cui 7 vaccinati e 4 no, Cruciani si è trovato a diventare emblema della causa dei Novax, citato e ripreso da più parti, inclusi i profili social di tanti personaggi famosi contrari al vaccino. Dispiaciuto pertanto per come la vicenda sia stata strumentalizzata, al Tg8 Gianluca Cruciani ha spiegato anche il perché del suo non essere ancora vaccinato. Sono qui per chiarire alcuni punti sull'accaduto, sono state scritte cose non vere, in quanto si è fatto passare che su 12 dipendenti, 11 fossero vaccinati con doppia dose, addirittura Green Pass, e risultassero tutti positivi, quando io l'unico non vaccinato al momento risultavo negativo. Quindi mi hanno chiamato in tanti, da tutta Italia, qualcuno dall'Europa, addirittura dall'Australia, per capire se fosse vera questa notizia. Del mio staff non tutti sono vaccinati, quindi diciamo un 60-40%, più o meno 60 vaccinati, 40 no, ma comunque tutti sono risultati positivi, tranne io. Quindi che al momento, un po' per paura, un po' per poco tempo, perché comunque adesso è un periodo che si lavorava tanto, ho deciso di posticipare anche il vaccino, magari a fine estate. Quindi mi dispiace essere stato preso come simbolo Novax, mi dispiace aver ricevuto parole non belle da chi magari è a favore del vaccino, ma non penso che siano queste le sedi per parlare di questa cosa, anche perché ripeto, io sono un semplice ristoratore e vorrei fare il mio lavoro punto e basta. E spero che il 16 agosto, data in cui saremmo tutti di nuovo sottoposti a ulteriore tampone, in caso di negatività, tornare a svolgere quello che comunque abbiamo sempre fatto. Il 16 c'è già una squadra pronta alla sanificazione, quindi speriamo bene che dopo questi 12 giorni di quarantena, che sto facendo anch'io, nonostante negativo, però essendo stato a contatto con tanti positivi, è giusto che sia così, si possa riprendere il lavoro, perché purtroppo perdere questi giorni agosto è dura. Quindi mi aspettavo più un atto di solidarietà, piuttosto che un montar su una storia allucinante, che comunque penso non serva prendere come capo espedatorio un accaduto del genere, un ristorantino di una città piccola come Pescara, quindi solo questo.